Il mio viaggio con Inboard Voice e Milena è stato ed è veramente incredibile. Ho iniziato circa un anno fa un po' spaventata perché non sapevo dove sarei andata a parare, nel senso che quando si inizia un percorso nuovo con persone nuove che non si conoscono perché ho trovato Milena su Facebook, si ha sempre un po' paura a scoprire cose che magari non ti piacciono, soprattutto di noi stessi. Invece devo dire che è stato da subito ricevere un dono, nel senso che mi sono fidata subito di Milena, la sua straordinaria empatia e la sua straordinaria professionalità e capacità mi ha fatto subito sentire serena e sicura di poter affrontare questo cammino, questo viaggio alla riscoperta di allora, non sapeva ancora che cosa fosse ma oggi vi posso dire di me stessa, incredibile e ringrazio veramente le sincronicità e adesso posso dire anche le frequenze per averla messa sul mio cammino. È stato per me un anno particolare, un anno impegnativo dal punto di vista emotivo e Milena mi ha accompagnato a riscoprire le risorse interiori che avevo dimenticato di me stessa e oggi vi posso dire che assolutamente sono felice e anche stupefatta di come questo viaggio con lei abbia riportato in me tutti i pezzettini che mi ero lasciata nel passato e che fanno parte di me e che oggi mi rendono una donna sicura che qualsiasi cosa possa succedere nella mia vita posso avere risorse, capacità, valori ritrovati, energia e le amicizie giuste e le persone giuste sul mio cammino per poter realizzare tutti i miei sogni. Quindi grazie Milena, grazie a voi, sono felicissima e continuerò questo cammino perché siamo solo all'inizio. Grazie! Grazie!